Si parla molto di Made in Italy per la moda, per il design, per il cibo, che sono degli asset fondamentali. Però è poco conosciuto il mondo della piccola e media industria tecnologica, che è una vera eccellenza italiana. E senza dimenticare che poi l'Italia è il quinto paese esportatore al mondo per la manifattura.